ciao ragazzi allora non mi ricordo quanto tempo era che non andavo da un veterinario però stamattina ho dovuto fare un antirabica perché sto preparando il passaporto per un cane che devo non farti prendere troppo dall entusiasmo per un passaporto che devo fare che una persona dall'estero che già un mio cliente si viene a prendere un cane nei prossimi giorni e ho visto un cartello affisso nella sarà l'aspetto del veterinario che mi è piaciuto tantissimo detto vabbè va malcomune mezzogaudio diceva prima sei troppo esuberante e diceva prima di chiedere all'amico prima di chiedere al vicino di casa e diceva prima di chiedere amico chiede al veterinario prima di chiedere al vicino di casa chiede al veterinario prima di andare a vedere cosa scrivono sul web chiede al veterinario prima dei social chiede vetera e mi ha fatto venire in mente il tema del video di oggi se voi state cercando un cane la guardia non basatevi solo su ciò che vedete nei video guardate io ho visto in tutti questi anni che persone assolutamente astute anche dall'estero hanno creato dal nulla delle razze e le hanno fatte non solo piacere hanno fatto innamorare le persone inventando dei video che non stanno nei cittadini terra a chiunque ha un minimo di cultura cinofila ecco perché vi dico sempre voi non avete idea a studiare investire nei video corsi da quanto vi ritornerebbe però non so se sia solo in italia o anche altri posti non è molto di moda io ho degli allievi ma rispetto ormai non so non credo che finirò questo video perché poi loro vengono presi da questi slanci poi le femmine si innamorano tutti di me le femmine del solo quelle del pastore della di accendere e ho visto delle razze create da niente potrei dire inesistenti che dove hanno fatto un mondo di carta pesta che poi crolla non appena le persone fanno l'esperienza volte ve lo dicono cani che solo loro riescono a sconfiggere il lupo e ora uno deve dire cazzo in quel momento lì c'era il lupo i cani quello che li filmava era giorno ha fatto in tempo a riprenderli eccetera che basta intendersene un po di cinematografia e basta capire un po alcune cose di zoologia dove vedi lontano un miglio di come è stato tutto artefatto eppure sono riusciti a far ad abbandonare a tantissima gente che di cani un po se ne intendeva quella che la realtà sui cani per passare a quella che la fantasia a quelle che sono le cose impossibili già facciamo fatica in cinofili a fare le cose possibili perché sono solo possibili per pochi altri non ce la fanno raggiungere siamo passati direttamente alle cose spaziali irraggiungibili incredibile infatti la parola giusta incredibile perché infatti non bisogna crederci se voi cercate un cane alla guardia ricordatevi che la razza può essere semplicemente ciò che io lo capisco i cani in questo modo mi piacciono in quell'altro non mi piace ma attribuire ad una razza queste assolute capacità di svolgere un lavoro a scapito di altre insomma vuol dire non sapere che esiste una soluzione una selezione bisogna disconoscere che i soggetti nascono uno diverso dall'altro bisogna far finta che i figli degli stessi genitori possono venire uno al contrario dell'altro bisogna far finta che le condizioni ambientali dove noi arriviamo i cani dove dobbiamo cercare di farli maturare o perlomeno mantenere un attaccamento al territorio non esistono quindi bisogna far finta che più hai esperienza più non capisci niente di cani e più invece ti improvvisi vai un po su youtube un po sui soci e più diventi questo vero esperto sempre più persone magari per intimorirmi mi dicono io mi sono documentato molto prima di fare la mia scelta eccetera e dico già hai fatto una scelta in base a cosa non l'ho capito e poi in che cosa consiste la documentazione cioè a chi hai chiesto agli elevatori se i cani che vendevano erano buoni hai comprata un'enciclopedia hai guardato tutti i video che c'erano su youtube e poi lì come diceva il veterinario hai chiesto i vicini di casa tutti gli amici ogni pizza che hai mangiato qualcuno ti ha detto qualcosa di nuovo ha imparato sui commenti cosa hai fatto perché documentarsi senza fare pratica veramente molto difficile quindi io vi consiglierei di far sempre quel che faccio io guardate per ottenere dei risultati soddisfacenti di qualsiasi cosa che io mi sia occupato mi sono pienamente concentrato in quello io non parlo mai di cani che non siano da guardia non parlo mai di nulla se non della mia cinofilia naturale e per concentrarmi solo sui cani sullo studio di cani ho lasciato perdere i cavalli questo è stato uno dei motivi perché già intendersi i due animali la vedo dura nonostante i cavalli avesse una bella esperienza e così come la vedo dura riuscire ad avere solo certezze noi viviamo ormai in un mondo dove sembra che ci siano solo più certezze quando invece in realtà studiando tanto certezze con gli animali non c'è quasi nessuna bisogna mettere tanto impegno per ottenere dei risultati a volte più che modesti e poi le persone a volte ti fanno delle richieste perché hanno visto i video eccetera e oggi tutti vorrebbero dei cani che fossero i più forti del mondo i più facili del mondo da gestire e che costassero almeno possibile e di lì io capisco che purtroppo di competenza ce n'è veramente poco perché io che investo sempre delle cifre importanti e poi mi rendo conto che basta fare pochi errori il cane non verrà come volevi basta fare pochi errori che non lo gestirai come credevi se non fai qualcosa basato sull'esperienza o se non ti orienti su quelli che hanno più esperienza come ho sempre fatto io portare a casa dei risultati non è facile bene in sintesi oggi è bello vedere i video ma se vi dovete scegliere i cani ecco sappiate che non è tutta rose e fiori e quelli che sono i film rimarranno per sempre il film e forse loro mi attaccano adesso va bene mi ha dato una botta e mi hanno bagnato tutta la telecamera perché qui praticamente c'è ormai sta anche piovendo ok vi ringrazio tutti e vi saluto a presto